Vai, sei pronto? Avvisami quando la tiri, si? Tiro, andata, ok, ok, non fa E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef, e questo è GmGTA5 E oggi siamo qui con un nuovo episodio del si può fare E questa volta sarà tutto a tema carri armato Che mi sembra il modo più giusto per inaugurarlo Esattamente, però partiamo sopra un cargo bob per confondere le acque Esatto, anche questo vedi, è più o meno la stessa texture mimetica Quindi confondiamo un po' e diranno perché siamo su un cargo bob in questo momento Esattamente, perché ci sono diverse cose che vogliamo provare del carro armato Che si fanno col cargo bob Quindi nel dubbio siamo andati già a prenderlo La parcheggiamo qua, lo lasciamo qui Che non si sa mai che poi ci voglia la vita Oltretutto, guarda, ti dico già una cosa Il cargo bob è uno dei prossimi veicoli che ci dobbiamo comprare Perché serve ormai sempre Sono d'accordo È un must have dei nostri, si può fare Partiamo da uno davvero fantastico Io questo appena l'ho letto sono diventato felice Quindi i consolini entrano nella, diciamo, nella nostra mentalità È il momento in cui sono più felice e fiero di loro Ci hanno proposto di provare a sparare con il carro armato Sulla rete di pallavolo Esatto, quindi diciamo che per renderlo un po' più frizzantino Uno si mette dietro e vediamo se mi colpisce oppure no Esattamente Perché secondo me queste reti di beach volley davvero possono fermare qualsiasi cosa Stiamo a vedere 3, 2, 1 Sono viva Allora, aspetta Aspetta Aspetta, ferma Ok, non mi muovo Piano piano alzo il tiro Vediamo fino a quando ti copre Ancora sì Ancora sì Ancora sì Ancora sì Ancora Ok Oh Quindi più o meno a questa altezza passa attraverso Ok Sto scioccata Non riesco a parlare Penso che sono rimasta 5 secondi a bocca aperta Perché davvero Mi ha lasciato totalmente senza parole La logica di GTA Comunque Comunque almeno adesso i consolini sanno Che se mai nella vita si ritroveranno un carro armato di fronte Dietro Mettetevi dietro le reti di beach volley Esattamente Così siete salvi Perché secondo la logica di GTA Questa è una cosa plausibile Fidatevi della logica di GTA nella vita E tutto andrà per il meglio Sì perché non si sta mai La seconda cosa che proviamo È provare a colpire una bomba adesiva Con il carro armato Ci abbiamo provato con le pistole Con il fucile a cecchino Oggi lo si fa con il carro armato Questa è impossibile No secondo me ci riusciamo Io sono fiducioso Allora Ascolta Andiamo No nel lampione Eh esatto In questo lampione qua In un posto abbastanza illuminato Mira il lampione Ok aspetta però mi metto più indietro Sono come fai a prenderla Così ho la luce I consolini vedono Però ne ho poche Il problema è quello Cavolo mi sono dimenticata di comprare Ne ho 8 Va bene Ce la posso fare 8 tentativi Oppure Oppure le andiamo a ricomprare Vai Sei pronto Avvisami quando la tiri Sì Mira Andata Ok Ok Non fa L'ho vista cadere Totalmente Ho detto ma sei addormentato Non la vedi vero Troppo buio Troppo buio Vabbè la facciamo nel momento in cui Sbuca il giorno Allora Visto che siamo qui Dobbiamo aspettare la giornata Sì Mi è venuto in mente di provare una cosa Ok Ovvero Quella specie di bug Del carro armato Del duello Ce l'hai presente? Ah sì Io pensavo che avessi prendere il fuoco insieme a questi bei signorini Perché dovrei Perché dovrei Eh boh magari ti piace Non lo so Praticamente ci avete scritto un commento Non sappiamo se è troll o meno Che dice che se io ammazzo Feriniki Mentre sto sul carro armato E lei mi propone il duello E io l'accetto Esatto Lei torna in vita sopra un carro armato Secondo me mai nella vita Funzionerà Però anche solo l'1% Senza un momento di dubbio Lo devi proprio togliere Capito? Senza carro armato è un duello davvero sleale Cioè Pronta? Dai vai Questo è il momento più bello Aspetta me lo guardo in prima persona Un attimino Miro proprio al petto Che belle queste cose Ok vai Mandami il duello Duello Allora si accetta da qua Duello duello Accetta Io l'ho accettato Niente? Guardami Oh poverina Sono normali È un essere umano che muore da Steph Duello No vabbè c'è ancora in corso Perché devi fare 5 Ovviamente Ci vieni No che triste Era ovvio dai Dai vabbè Sì era ovvio Però sei com'è Moltiplichi i carri armati Eh ma ci speri sempre un pochettino Di fare un disastro in città Pieno di carri armati Perché sarei andata in giro A distruggere tutto Aspetta Adesso ti diverti Perché? Perché adesso proviamo a vedere Se il cargo bobo Può prendere il carro armato E se lo può prendere Mentre tu stai sul carro armato Puoi sparare Perché nel caso diventi un'arma volante letale Che ammazza tutto Ma che cosa? Oh mio dio Quindi diciamo che anche se quello non funziona Ti consoli facilmente Ma io qui ho un dubbio Perché i consolini ci consigliano sempre Di prendere camion Pullman Diciamo veicoli molto grandi Sì Ma io non lo so se fa Perché tu l'altra volta hai preso la barca Mi hai preso? Sì Stai scherzando Ti ho appena preso Ti dicevo hai preso la barca grande Non te la faceva sollevare Mi fai sollevare un carro armato La logica di GTA Quella su cui bisogna vivere Siamo pronti Prova a sparare Oh mio dio Andiamo Abbiamo scoperto l'arma finale di GTA Voglio 5 stelline Entrate con i vostri amici e fatelo Perché è bellissimo Si muove tutto Aspetta Mira un po' più lontanato Diciamo che è un'arma che funziona Ma non è propriamente letale No no Non è proprio mirato Ok Perché si uscilla davvero un sacco Oh non è preso mezzo Ho notato Io sono qua che gira intorno per la città Aspetta E cavolo E li manchi tutti No tu non hai idea di quanto è difficile E lo vorrei provare Ma tu non puoi guidare Abbiamo qualche problema Al massimo te lo faccio provare con io Che vado solo in alto no? Eh no non ci sarebbe gusto Non ci sarebbe gusto Perché appunto non scegli E una l'hai presa Io ci vedo bene Come cattivo di un episodio di Flash O di Supergirl Perché stiamo guardando entrambi Cioè c'è uno che ha un aereo sotto un carro Uno che ha un aereo Con un carro armato attaccato E ben giro per la città A far esplodere tutto E pensa all'episodio di Flash Che c'è Flash contro noi In elicottero e carro armato Allora mi stai puntando troppo in alto Quindi non riesco più a puntare la strada Devi stare attento Io lo so che tu vuoi parlare di queste cose Ma mi devi Scusami No è impossibile prendere la macchina Te lo dico Aspetta Così invece? Eh molto meglio Sì sono verso il bar Ok vai spara 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 Quella della polizia Ci provo Dai dai Aiuto Aspetta mi giro Vai Non do mordo No sono troppo storta Aspetta Aspetta Dai Sto imparando a far disparare Col carro armato Ho preso qualcosa di gigante Doveva essere un pullman Ok Vabbè ne ho tre Ne ho tre Ne ho tre Allora adesso aspetta Concentrata E guarda la minimappa Appena arrivano Dell'elicottero Dimmelo che te lo miro Ma non è quattro gli elicotteri No no è tre Eccolo qui davanti a me Dov'è? Qui Aspetta No aspetta mi devi mettere un po' più in alto Ah troppo in alto Oh mio dio Ok Lo vedo Vai ci sei quasi No È troppo difficile Dai Ho preso No Dai Sto oscillando Basta Siamo terribili Siamo terribili Che figata Ma dai ma no Episodio speciale dei carri armati Bellissimo Bellissimo Sono emozionato Abbiamo fatto il duello doppio Per vedere se appunto funzionava A raddoppiare il carro armato Aspetta che ci lascio Ne ho preso un altro Davvero? Sì Ok Allora abbiamo un problema Dimmi Bisogna chiamare velocemente l'Ester Abbiamo quattro stelline Se vuoi te ne prendo un altro Vediamo se ne facciamo cinque Guarda qui sopra No grazie Qui sopra Non ci tengo ad avere cinque stelline Ho preso un altro Sai che se mi colpiva Perdevamo il cargo pop No era tutto calcolato Tranquilo E noi dobbiamo fare un'altra cosa No ma io l'avevo visto Non ti dovevi preoccupare Io me le sono tolte Tu? No Ok toglitele vai Duello l'abbiamo fatto Prendere al volo la mina con il carro armato L'abbiamo fatto Rete di bici volley L'abbiamo fatto Sparare con il carro armato Mentre vola L'abbiamo fatto Ne mancano due Una è vedere con quante mine esplode il carro armato Ed è ovviamente la fine dell'episodio Sì ovviamente E l'altra Ovvero l'ultima che dobbiamo fare È sul monte Ciliad O qualcosa del genere Ok Sì Non mi ricordo mai il nome Vediamolo nella mappa magari Ed è una cosa che ci hanno chiesto sempre Non con il carro armato Ma in generale Con il carro armato ci ha chiesto solo uno E siccome lo volevamo già fare normalmente No esatto Queste proposte sul monte Ce le hanno fatto tipo con le moto Con le auto Davvero di tutti i tipi Esatto Siccome lo volevamo già fare Ho pensato Facciamolo con il carro armato Dopodiché poi Se è molto figo con il carro armato Valutiamo l'idea di farlo appunto Con le moto Con le macchine Con altri veicoli Certo Ma quindi aspetta Cosa devo fare di preciso? Adesso andiamo nel monte Ok E poi cosa devo fare? E poi devi buttarti Perché? Con il carro armato Allora mi devi mollare Perché praticamente c'è una discesa pazza Ok Che si fa in quel monte lì E c'è la possibilità di andare A una velocità incredibile In discesa Senza morire Sia con la moto Che con la macchina Morirò malissimo Lo so già Lo so già E col carro armato Secondo me è del tutto impossibile Però farà morire da ridere Abbiamo un solo tentativo qua Perché l'elicottero Sta soffrendo tantissimo E direi Non riesce a salire A questa quota E quindi sarà un solo tentativo Non devo sbagliare adesso Oh mamma mia Che visione All'alba qua è bellissimo Allora Ti parcheggio Sì è andato tutto bene Ok Aspetta che se riesco Parcheggio anche questo elicottero Va che sinceramente Piano Piano Non farebbe No Che c'è? Allora devo stare molto ferma Ok Perché si sta capotando Ok no Devi stare molto calma Scendo Arrivo Non mi prendo la responsabilità Di farlo cadere Arrivo Ok Eccomi Allora Oh che bello sto posto Eh sì soprattutto a questo ora qua È fantastico Ti vedo tutta la città Dovrebbe essere Perché dice danger C'è un punto specifico Da cui ci si butta Che ti permette di fare Una specie di strada Indicesa velocissima Però non mi ricordo Allora vediamo qua Se c'è scritto qualcosa Vediamo Ci sono dei cartelli Vediamo un po' se dicono qualcosa Sì 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 Io ne mentre Io ne mentre cerco un video al telefono Aspetta È un momento Aspetta Metto il tuo monitor Perché me lo voglio godere Assolutamente Vai Assolutamente Ci sono Allora Dovrebbe essere qua Ok Se ho sbagliato È il fail della giornata Vado Vai Vado Sei sicuro? No per niente Oh mio dio Ti prego Uh Ok Vai 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 tieni tieni Ci sono ancora Stai ancora saltando Ci sono Ok Ok Continua la discesa Ok Molto sobrio Sì Tutto a posto Tutto a posto Vai Continua la discesa Dobbiamo arrivare fino alla fine giusto? Assolutamente Mi sono incastrato Oh Ma che è successo? Eh quando giri quella cosa Inizia a farti girare tutto Ma che Guarda Allora calmati Ce la puoi fare Stanno cadendo Stanno cadendo massi E io Sono incastrato nell'albero Dai No dai dobbiamo finire Non ci può fermare un albero Ok ce l'ho fatta Vai Mi sono incastrato in quello dopo Si scende Si scende Allora io non so se era Il posto migliore da dove buttarsi Però è stato epico anche così Ma sì perché c'era un dirupo Un dirupo Io so che ci Appunto come hai detto Tu che ci si può buttare Totalmente anche col paracadute Però dico Ci sono diverse strade che puoi fare Non so se questa era la più divertente Però è stata fantasticissima E poi si continua E poi guarda Ancora non abbiamo finito E perché infatti Pensala con la moto qua Che velocità sei Eh esatto Con la moto lo dobbiamo provare Lo facciamo tutti e due Insieme Perché almeno le moto Ce li abbiamo insieme Portare su la moto Ci metti sei mesi e mezzo Ma non te la puoi far portare Nella tua posizione Ah beh Non so se li vale Capito Dal meccanico Sai non so Se ha voglia di arrivare fino a lì Ci sono cose strane No avrebbe senso Se te la portano alla posizione Ho una domanda Dimmi Come mi raggiungi adesso Mi lancio col paracadute E poi muoio Fede dove sei Arrivo Ma hai fatto affare tutto a piedi Sto arrivando col fuoristrada Non finisce più Il carro armato lo fate esplodere Perché adesso dobbiamo tentare Delle cose che c'entrano Con l'esplosione del carro armato E quindi ne serve uno nuovo di zecca Altrimenti Ah beh giusto Certo 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 No 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 Ma perché ti stai complicando la vita Aspetta che arrivi io Che ci fai Eh perché volevo venire a darti una mano Mi dispiaceva lasciarti lì Sono assorretta Eccomi Ancora non ti vedo Eccomi Calmati Fede Ci sono Portami al negozio di armi Che devo comprare le bombe adesive Dai 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 Devevo anche andare a ritirare il carro armato Eh lo so Tante cose Fede ci scantiamo Fede Mi stai uccidendo La smetti Ecco qua adesso moriamo Guarda hai perso tutti gli sportelli Guarda però Guarda che volo Yes baby Sono pronto Sono pronto a colpire le mina in volo E c'è pure un tizio che ci guarda Ci sono un po' di macchine in me Vabbè non c'è frega nulla Sono un carro armato Vai Ok ne ho preso 25 Fammi via ogni volta che ne tiri una Via Tirata Sta scendendo Ok Niente Cerchi di tirarla davanti a me È difficilissimo Aspetta 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 Provaci Perché Guarda così Ok 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 Mi sembra abbastanza davanti Sì c'eri c'eri Tieni quella direzione e quell'angolatura Rimani proprio ferma così Ok Pia ma non devo tenere questa Sì Ok vanno bene vai Ok ci siamo ci siamo ci siamo Ce la posso fare Vai E mamma non la vedi Dai c'eri vicino C'ero Dai che ci sono Continua Vai No Vai ancora Non mi arrendo Dai La sto sfiorando Ne abbiamo ancora abbastanza Non lo so Nel caso le ricompro E qui dietro Ok ancora No le ho finite No Aspetta un attimo No E c'è la polizia ovunque Eh lo so Dimmi che il negozio è chiuso ora Eh può essere Per il casino che sto facendo potrebbe Chiuse Mi ha anche ucciso Accidenti a lui E con questa pioggia Qualcosa storto doveva per forza andare Ferenichi è crashata E sono rimasto solo nella sessione Quindi Questa cosa delle carri armato Che spara le Diciamo Come si chiamano Le bombe adesive Lo lasciamo perdere per questo episodio Ma lo riproveremo Perché secondo me Esatto Un po' come la cosa del paracadute Con la ruota panoramica Ogni tanto le riproviamo Esatto Allora secondo me Io sono sicuro che ci riuscirò Ma è davvero difficilissimo Cioè secondo me È molto più difficile Del fucile da secchino Proprio è difficilissimo Non lo so Dopo che imparo Secondo me riesco anche a colpirne abbastanza Speriamo Speriamo perché sarebbe bello Diciamo che non è decisamente semplice L'ultima cosa da provare E capire con quante mine e bombe adesive Mine No che poi le mine sono un'altra cosa Lo so Perché si attivano col movimento Mentre invece la bomba adesiva Beh le mine sono quelle che metti a terra Che se ci passi sopra esplodi Esatto Non c'entra proprio nulla con la bomba adesiva Di movimento Però ho un problema mentale su questa cosa Non so perché continuo a dire Le bomba Vabbè le cose che esplodono Le cose che esplodono Ok Vediamo quante ne servono Per far esplodere il carro armato Ok Quindi ne ho chiamato uno nuovo di zecca Giustamente Perché altrimenti Non possiamo sapere Volevo di fare solo soletto Che tristezza Che con i caricamenti GTA Ci metto 25 minuti Solo per tornare nel gioco Che tristezza E poi in assenze privata Quindi se non ti invito Non puoi venire Ti uccido Io non ti invito Allora Allora proviamo con tre Io farei una Due E una dall'altro Perché non lo so Secondo me è bellino Ok mi sembra giusto riempirlo Esatto E tre Allontanati Tre Due Uno Boom 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 Oh l'hai distrutto Si Cioè solo tre ne bastano Ma fai schifo Cioè io Io pensavo almeno cinque Perché poi cinque è il massimo Che puoi mettere Perché non te ne fai esplodere Più di cinque assieme Ma solo con tre Che tristezza Ok Adesso sappiamo che Il carro armato fa pena E' stato un episodio Davvero bellissimo Uno dei si può fare Che più mi ha divertito In assoluto Ma voglia Soprattutto rendere Il carro armato Un'arma volante Micidiale E' stato bellissimo Bellissimo Un'emozione che davvero Quando hai preso l'elicottero Probabilmente neanche Quando mi sposerò Sarò così emozionata Come quando ho sparato Sopra A pesa Grazie Giusto per dire Scusa Ma scherzi Quando ti forrei capitare Secondo me è un'emozione Che proprio niente Può eguagliare Te lo dico Esattamente Comunque ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Continuate a consigliarci cose Sia con il carro armato Che con altre cose Possibilmente Non con gli elicotteri Perché ci stanno antipatici Gli elicotteri A furia di farne Ma ormai ne abbiamo fatte troppe Cosa per il carro armato Cosa da fare a piedi Consigliateci tutto Quello che vi viene in mente E continueremo a fare E si può fare Spera che se non riesce così Si è giusto Lasciateci un bel like E se la prima volta Che avete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao